Perché tanti convegni sui conflitti di interesse, già il secondo convegno in tre mesi al quale sono invitata come autorità nazionale anticorruzione, cioè nella sede della prevenzione della corruzione? Perché in realtà se ci pensiamo bene, alla base di ogni condotta di corruzione vi è un conflitto di interessi che non si è riusciti a sciogliere. Un conflitto di interessi che determina casi di cattiva amministrazione, casi di illegalità amministrativa o civile, fino a casi di illegalità penalmente rilevanti che portano quindi a condotte di corruzione. Quindi se ci fosse una seria operazione di disclosure rispetto ai conflitti di interesse, è probabile che l'enfasi sulla difficoltà di fare prevenzione della corruzione potrebbe scendere ad un livello accettabile. Grazie dell'attenzione.